Appuntamento con la lettura, ritorna tra le righe incontro con l'autore. Oggi ho il piacere di avere ospite in collegamento Skype, Giorgio Agagliati, esperienza quarantennale nella comunicazione d'impresa, ma non solo, anche nella comunicazione in parrocchie e all'interno dell'ambito ecclesiale. Giorgio, bentrovato, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi, bentrovati tu e tutti gli ascoltatori e buon anno intanto. Grazie, grazie. E allora, hai scritto per LDC i pratici questo libro, mi ha colpito subito il titolo quando l'ho richiesto alla casa editrice, Poche chiacchiere come comunicare bene in parrocchia. Ok, allora è un libro pratico, ci sono davvero tanti consigli e lo dicevamo prima a microfoni spenti, consigli che vanno bene in qualsiasi settore, non solo in ambito ecclesiale oppure parrocchiale. Dobbiamo essere molto pratici, Giorgio, ma lo so che tu già lo sei di tuo. Che cosa fare e che cosa non fare quando si tratta di comunicazione? Beh, in questo caso anche, soprattutto con uno sguardo alla comunicazione in parrocchia. Partirei da cosa assolutamente non fare, proprio perché abbiamo dei compiti, una missione, un mandato, che sono quelli che riassumiamo nella parola evangelizzare, ed è quindi un contenuto da portare che è di per sé il meglio che si può offrire al mondo, questo non ci deve trarre di inganno. La bontà del contenuto è assoluta, ma noi lo dobbiamo proporre con gli efficaci strumenti della comunicazione che questo mondo può recepire. Dare per scontato che il Vangelo si, scusate la brutta espressione, si venda da solo, non è vero e non è vero soprattutto nel mondo d'oggi. Dobbiamo comunicarlo in modo efficace alle persone a cui lo vogliamo portare. Quindi il primo non fare è non tener conto delle tecniche. Abbiamo il contenuto migliore del mondo, abbiamo bisogno di ottime tecniche di comunicazione per proporlo. E direi che il maestro assoluto in questo momento è Papa Francesco, al quale tra l'altro sono debitore del titolo, perché il poche chiacchiere viene da un suo intervento. Allora, quindi cosa assolutamente non fare l'hai detto. Che cosa invece assolutamente bisogna fare? Prima di tutto rendersi conto di come siamo noi come comunicatori, analizzarci un po'. A un certo punto nel capitolo sul parlare in pubblico io metto per esempio la checklist del parlatore, dell'oratore. Così come i piloti d'aereo hanno una checklist per controllare che tutto sia in ordine prima del decollo, così io devo autoesaminarmi e c'è un questionario molto divertente e interessante da fare per capire quali sono le mie caratteristiche di parlatore. A quel punto ci lavorerò sopra e ci sono dei suggerimenti per lavorarci sopra. Ma più in generale sempre tenere conto del contesto, a chi mi sto rivolgendo e per che cosa. La regola d'oro è obiettivi, destinatari, strumenti. Cosa voglio fare e cosa voglio comunicare? A chi e in che contesto, in che situazione lo faccio? A quel punto sceglierò gli strumenti, cioè le tecniche, le modalità di approccio e di comunicazione più adeguati. Il fare parte da qui assolutamente, essere consapevoli di sé e del contesto. Terza cosa, tener conto, e se non lo abbiamo andarlo a cercare, del feedback di chi riceve la nostra comunicazione. Ogni tanto controllare che il canale di collegamento funzioni bene. Un'altra cosa che mi ha colpito, ho messo anche il segno, a pagina 138 tu parli, e questo è un capitolo dedicato, o meglio è un paragrafo dedicato in particolare ai sacerdoti e parroci. L'omelia da sette più, perché tu scrivi che ci sono omelie che sembrano delle disertazioni di laurea oppure dei diligenti temi in classe. Bene, bravo sette più, citando Cochi e Renato. Però aggiungi anche che l'omelia da sette più difficilmente arriva al cuore. Quindi quello che bisogna fare quando si comunica è arrivare dritti al cuore delle persone. E aiutare testa e cuore a rimanere in collegamento. La testa da sola, cioè un'omelia intellettuale, si ferma all'aspetto razionale. Posso anche apprezzarla, però è un ragionamento. L'omelia solo sentimentale, affettiva, perde un pezzo di strada, perché io devo ragionare anche sulle scelte che la mia fede mi porta a fare. E l'omelia dovrebbe aiutarmi. Mettere in comunicazione testa e cuore l'omelia efficace. Quella da sette più, il compitino diligente, non è assolutamente sufficiente a fare questo. Bisogna che ci sia una positività, un calore, una partecipazione della persona che porge l'omelia a ciò che sta dicendo. Una passione, diciamolo pure, che non sempre sentiamo. Dico solo una cosa, rivolgo queste cose certamente ai sacerdoti, ma anche a noi diaconi. Anche noi siamo chiamati al Ministero della Parola. Io per primo mi metto sempre in discussione quando devo tenere un'omelia. Non diamo mai nulla per scontato. Giudicare gli altri è facile, ma il primo giudizio è per se stessi. Però sì, l'omelia compitino diligente, effervescente come una tisana, non va lontano. Bella questa, effervescente come una tisana, te la ruberò. C'è anche questa nel libro, la troverai. Un'altra curiosità, tu parli anche del fatto che è meglio leggere un testo quando si comunica, che sia omelia, che sia anche una catechesi o altro, o è meglio andare a braccio? Anche magari con il rischio di essere preparati sull'argomento di cui si parla, però magari perdere qualche passaggio, a volte anche perdere il filo del discorso, insomma. C'è uno step intermedio, c'è un passaggio intermedio tra le due cose? Certo che c'è ed è, credo io, l'ideale, poiché un'omelia va attentissimamente preparata. Un'omelia, come anche una conferenza, un intervento, una meditazione, un ritiro, va attentissimamente preparata. L'improvvisazione non esiste in questo campo, proprio per una questione di serietà. Mentre la preparo mi faccio una scaletta concettuale. I nodi tematici e le parole chiave me le annoto. Quella annotazione me la posso anche portare dietro. purché io ne sia padrone. Il testo scritto per intero, fatalmente, per quanto bene io lo scriva, e per quanto io lo scriva con una sintassi adeguata al parlato, mi irrigidisce. Per esempio mi irrigidisce i movimenti. Rende meno espressiva la mia corporeità. E invece questo fa parte del parlare in pubblico in modo molto potente. Il testo scritto no, andare sempre e solo a braccio, così all'impronta, è sconsigliabile. Dicevo prima, l'improvvisazione non esiste in questi casi. Avere davanti una scaletta tematica ed essersi naturalmente preparati bene il ragionamento che si vuole proporre, io credo che sia l'ideale. Esatto, bene. Allora, c'è un altro appunto che ho preso, del quale volevo parlare con te. Si tratta del, lo inserisci sul finale, le Magnifiche Sette. Sette, ecco, quindi le Magnifiche Sette, scrivi, invece del tradizionale capitoletto conclusivo, propongo alla fine di questo percorso sette regole per orientarsi nel delicato compito e servizio della comunicazione pastorale. Allora, velocemente, quali sono queste sette regole, Giorgio? Una non c'è detta prima, ed è la ODS, obiettivi destinata agli strumenti. Parto dal contenuto che devo comunicare o che voglio comunicare e quindi dal mio obiettivo tematico penso a chi sono i destinatari, persone, situazioni, comunità, ambiente, contesto, anche il contesto fuori dalla Chiesa, perché la Chiesa deve comunicare anche ad extra naturalmente, e a quel punto scelgo le modalità, dallo strumento fisico, concreto, più opportuno, al registro della comunicazione che è più adatto tenere. L'altra regola è abbiamo un piano, cioè non si improvvisa, si fa sempre una pianificazione attenta della comunicazione che si vuole fare, anche per le piccole cose, perché niente è troppo piccolo nella comunicazione che evangelizza, nella comunicazione pastorale. La terza regola è qualità totale, qualità totale perché nessuno è perfetto, ma bisogna tendere al meglio che si può offrire, quindi bisogna stare attenti, mai tirare via, ecco, per dire così. Anche un messaggino in chat per darsi un appuntamento per un incontro del gruppo può essere chatto o ben curato o ben scritto. Se è ben curato o ben scritto predispone meglio l'interlocutore. Ferri del mestiere, cioè noi dobbiamo avere una serie di attrezzi concettuali, conoscere i linguaggi, i registri e queste cose ce le dobbiamo portare dietro, le dobbiamo imparare perché la fatica la deve fare chi ci legge, cioè scusate, la dobbiamo fare noi che scriviamo, non chi ci legge, la dobbiamo fare noi che parliamo, non chi ci ascolta. E se non abbiamo i ferri del mestiere questo onere si ribalta. Ascolto e feedback, sì, grazie, è la quinta regola. Sempre andare a cercare il feedback delle persone, non per avere delle piaggerie, le sviolinature. Ditemelo se non è andato bene, ditemelo in che cosa non ho funzionato, perché funzionerò meglio la prossima volta. Low profile, sesta regola, il protagonista della comunicazione, non sono io, ma sono Dio e i miei fratelli, che io come comunicatore ecclesiale cerco di mettere in comunicazione. E poi la settima regola sembra una formula matematica, ed è DDM fratto DDA sempre maggiore di 1, cioè dipende da me fratto, dipende dagli altri, è sempre maggiore di 1. Esistono sicuramente vincoli di situazione, di contesto, di persone che mi condizionano, ma la prima responsabilità di una buona comunicazione è la mia. E allora io non posso scaricare sul... Ecco, un esempio classico, in questa società, in questa cultura secolarizzata, non sempre l'ascolto del Vangelo è bene accolto. Ci sembra a volte di essere come Paolo nell'Areopago, ti ascolteremo su questo un'altra volta, gli dicono i greci, quando lui parla di resurrezione di Cristo. Ecco, questo non può essere un alibi. E noi proviamo di tutto, ma non ci sentono, questo mondo non ci ascolta. Intanto vedi se ti stai facendo sentire per bene, se stai comunicando come si deve, con tutta l'energia del caso. Io continuo a dire, guardiamo a Papa Francesco, che con un linguaggio semplice, che smonta tutti gli alibi che potrebbero esserci, ci propone verità profonde, importanti, che arrivano alla testa e al cuore, ma lo fa con la quotidianità, come un vero servo di Gesù, che ricordiamo, ce lo diceva, ti ringrazio padre, perché queste cose le hai rivelate ai piccoli e ai semplici. Gesù era uno che parlava chiaro. Mi piace dire che le sette regolette che ho appena ricordato, vengono dalla mia esperienza professionale. Sono frutto del lavoro di un team, che insieme al nostro responsabile, ha elaborato una specie di carta della comunicazione, che è molto più ampia di così, ma io ne ho distillate alcune regole che si prestavano particolarmente ad essere adattate in ambito pastorale. Ecco, regole professionali adattate in ambito pastorale, ma quelle che tu riporti sono veramente delle regole, oserei dire, universali quando si parla di comunicazione. C'è anche un capitolo molto interessante dedicato ai social. Il tempo televisivo è sempre molto ridotto, però lasciamo, come dire, i nostri telespettatori con la voglia di continuare a conoscere qualcosa in più dell'importanza della comunicazione in parrocchia in ambito pastorale, rimandandoli al tuo libro Poche chiacchiere, come comunicare bene in parrocchia, edito da LDC I Pratici, Giorgio Agagliati, che ringrazio per essere stato con noi quest'oggi, per averci dedicato il suo tempo e la sua professionalità. Tanta, tanta esperienza nel campo della comunicazione. Grazie Giorgio, alla prossima occasione allora. Grazie a te e a tutti voi, è stato un piacere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.